Però non si sa che poterà. Marco sta seguendo la linea di pannella in tantissime cose, tra cui questa è l'iniziativa di presentarsi, anche se le circostanze sono piuttosto dure, metterci la faccia. Il nostro impegno è continuare così, aiutare le persone che vivono sulla propria pelle un'urgenza di libertà a trasformarla in riforme politiche e di legge, anche quando la politica è così disattenta. In quest'anno di governo Meloni non si è fatto nessun passo avanti sui diritti civili, siamo però riusciti finora a respingere gli attacchi più pericolosi.